La bretella signa la strassigna irrealizzabile ma con un nuovo tracciato e la proposta progettuale da sottoporre nei prossimi mesi a valutazione di impatto ambientale è stata presentata a Firenze dall'assessore Vincenzo Ceccarelli e dai sindaci dei due comuni Alberto Cristianini e Angela Bagni. Il nuovo tracciato archivia quello precedente che interferiva con il masterplan dell'aeroporto e con il relativo laghetto di compensazione di Peretola e prevede con costi più snelli una strada di 2,6 km che parte dallo svincolo di la Strassigna della Fipili e mantiene il nuovo grande ponte del Giglio sull'Arno. È un'opera che oltre a risolvere il problema di collegamento tra la Fipili e la SR66 cosiddetta Pistoiese può servire anche da circonvallazione per gli abitati di la Strassigna e di Signa ma è un'opera fondamentale anche per quanto riguarda il decongestionamento di quel nodo a nord-ovest della Piana. Da qui la partecipazione tra gli altri del Comune di Firenze e della città metropolitana all'opera che prevede un viadotto dotato di stralli lungo 800 metri, 300 dei quali di Ponte Vero e Proprio sopra l'Arno e alto 15 metri. Bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto e come ho fatto in questi mesi, ho fatto una scelta a differenza degli altri miei collaboratori sindaci dell'area, sono voluto entrare nel merito del progetto, non potevo essere poi tacciato dalla storia che questo poi era un accordo tra Stato e Regione che avrebbe poi sostanzialmente scancellato la realizzazione di un'infrastruttura così importante per le comunità di Signa e della Strassigna. Il progetto complessivo ha un costo di 35 milioni di euro e l'avvio dei lavori, che dureranno circa tre anni, è previsto nel 2022. In poco tempo, in un mese, siamo alla fattibilità, un progetto più snello, come avete visto, anche in termini sia di fattibilità ma anche in termini di sostenibilità economica. Abbiamo già dei buoni presupposti, già un terzo dei fondi sono stati individuati, entro una quindicina di giorni, andremo poi a ratificare un accordo di programma. L'opera potrebbe aprire nel 2025.